Allora, compra il cane e poi dopo va bene, io lo tengo, ci penso io, ci penso io, poi mi tocca andare a comprare qui, oggi devo andare a ballare. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito, la soluzione la troviamo, la soluzione per il cane la troviamo. Va bene, però voglio dire, quando si prende e si fa una cosa, si deve essere anche d'accordo che la devi mantenere tu, non andare in braccio agli altri. Oh che taci, una soluzione drastica la troviamo. Che taci, stai attento che non vai addosso quelli di questo. Una soluzione drastica, vedrai che la trovo, ce l'ho già in mente, ce l'ho già in mente. Quale radice hai te? Vedrai. Dove ti fermi, perché ti fermi? Allora, questo cane, chi è che lo tiene? Sempre io, sempre io pulire, lavare, dargli da mangiare e lui è sempre sporca dappertutto? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, non accidete, lo devi ritenere te, invece mi tocca accudirlo io. E' una cosa brutta, ma vuole farlo. No, è bello. Per il bene di tutti la farò, la farò, stai calma, la farò. Però te la tieni te stavolta. Per il bene di tutti, lo so che è una cosa che non va bene, ma la farò per il bene di tutti, va bene? Adesso vediamo cosa farai, vediamo. Io, dagli da mangiare, facciamo una cosa che non vorrebbe mai fatta, però, guarda, va bene, la facciamo, anche se non vorrebbe mai fatta, per il bene di tutti, la farò. E' comodo a dire così, però, eh? Perché intanto tocca a me pulirlo. Guarda, una soluzione drastica la trovo, la trovo. Adesso vediamo cosa trovo. Una soluzione drastica la trovo. Eh, cosa trovi? Vedrai che la trovo. So che taci un po', vedrai che la trovo. Delinquente, torni indietro, torni indietro. Guarda che se poi faremo i conti, eh, torni indietro. Oh, hai visto che la soluzione l'ho trovata? Ci si è liberata di quella spacca maroni. Adesso sì, tutta vita. E poi...